Torna alla festa dell'Unità Pescara, quattro giorni di incontri, dibattiti per parlare anche con i cittadini delle varie problematiche. Un appuntamento importante di Pietro Antonio. L'occasione per ricreare anche quella comunità politica e per riavvicinare evidentemente i cittadini alla politica di questi tempi, insomma, che non è facile. Ci saranno ospiti nazionali, a cominciare dal vicepresidente segretario del Partito Democratico, Deborah Serracani, sottosegretario Rughetti. Io invito tutti i cittadini, simpatizzanti, gli iscritti, proprio per cercare di capire, di approfondire tante tematiche che oggi, insomma, forse sono anche poco chiari. Ci saranno tanti momenti anche di divertimento, di spettacoli, con concerti tutte le sere di livello nazionale, chiaramente, e quindi, insomma, sarà sicuramente un appuntamento da non perdere. Sì, siamo orgogliosi anche che questa festa si torni a chiamare festa dell'unità, perché questo simbolo ha un valore, ha il valore della comunità che si costruisce, che fa squadra e che lavora per raccordare i cittadini con le istituzioni. Siamo orgogliosi di essere un partito che organizza, in grado ancora di organizzare feste di questo tipo, con grandi approfondimenti, ma anche con momenti di serenità, di svago, di musica, anche molto diretta ai giovani. Siamo un partito che è radicato nel territorio, che è radicato tra la gente, anche in un momento in cui la politica sembra una cosa lontana, distante, e noi la vogliamo assolutamente riavvicinare ai cittadini. E questi momenti sono necessari, sia per costruire la nostra comunità, e sia per rapportare questa comunità che c'è ai cittadini che ci chiedono delle risposte, a volte anche solo di semplici. A volte i cittadini non chiedono di risolvere problemi complessi immediatamente, chiedono di essere ascoltati, e questo è uno dei momenti in cui la politica ascolta.